È stato un Natale di successo soprattutto per i volontari, perché noi grazie ai volontari siamo riusciti a mantenere un'identità del territorio con un progetto unico nelle Marche, ma io direi un progetto unico nel centro Italia, dove siamo riusciti a catalizzare quasi 300.000 turisti, grazie all'intervento degli enti pubblici come la Regione Marche, ma grazie anche al sostegno di soggetti privati, quindi di sponsor privati, che ringraziamo di cuore per l'intervento che c'è stato a favore del territorio e a favore delle Proloco. Noi siamo su 300.000 visitatori, abbiamo avuto 30.000 visite nel sito, 2 milioni di like, quindi c'è un processo sempre più crescendo, di numeri che parlano da solo. Noi siamo veramente orgogliosi perché il nostro Natale, il Natale che non ti aspetti, dove ha racchiuso 22 borghi, vede impegnati tantissimi volontari, perché noi siamo oggi qui a presentare dei numeri che hanno prodotto i volontari. E oggi un grazie di cuore anche a chi ci ha ospitato in questa bellissima sala, allo studio Cappellini Cesaroni, grazie veramente di cuore perché ci permette di fare qualcosa di nuovo in sale nuove, sconosciute magari anche alla città, quindi sempre di più dobbiamo innovare e fare cose nuove. Ribadisco la questione dei volontari, perché in ogni caso sono più importanti degli sponsor, in quanto è molto più facile tirar fuori i soldi, se uno o qualcuno un po' ce l'ha, rispetto che dare il proprio tempo. Il proprio tempo ha un valore grande, nessuno può quantificare quello, ed è questo basato sul discorso della passione. Quindi alla fine questo sistema deve essere per me implementato, avere più risorse, in modo che i volontari possano avere anche qualche piccolo vantaggio. Sicuramente è un brand ormai riconosciuto a livello di promozione turistica e anche a livello di destazionalizzazione. I numeri che presentiamo oggi sono numeri molto importanti, che dimostrano ancora una volta quanto sia efficace, quanto sia importante questa iniziativa. ConfCommercio la sostiene in maniera molto convinta, perché è sicuramente un progetto nuovo, è sicuramente un progetto che sul territorio porta economia. E solo il fatto che le nostre attività sono state sold out per un intero mese e più, tutto il periodo di Natale, questo vuol dire che porta tanta economia sul territorio, è per noi importante come ConfCommercio. Oltre 2 milioni di visualizzazioni sulle pagine social, 30 mila visualizzazioni sul sito del Natale che non ti aspetti, migliaia di camper, 300 pullman, 4 treni speciali dedicati al Natale. Quindi una grandissima manifestazione sulla quale la regione Marche punta, grazie alla grande attività del Proloco della provincia di Pesaro e Urbino, grazie al lavoro di tanti volontari che ricreano le tradizioni del Natale in oltre 20 borghi della nostra regione, con 100 manifestazioni e anche due importanti presepi viventi che sono un grandissimo attrattore all'interno dei bellissimi borghi della provincia di Pesaro e Urbino.